Bene ragazzi, ricordatevi questo momento, lo ricorderemo tutti, come il momento in cui DJ Coral ci ha caricato sulla sua astronave. E così preparatevi al decollo, vi ricordo sulle mani, è più divertente. E così preparatevi al decollo. Tecno Tanaro, 4 settembre 2021, questa non è un'esercitazione. Siete pronti? 20 secondi al lancio, siete pronti? Non ho sentito, siete pronti? No! 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 No!